Luna sta trascorrendo la domenica assieme ai nonni. La portano al parco giochi, sul trenino e anche a mangiare al ristorante. Vogliamo giocare Luna? Sì? Quello ti piace? La caffetera di mia vicina per la mattina. Luna è una signorinella, si ferma a guardare le vetrine. Le piace una caffettiera. Bella Luna, che gusti così piccola!